Il gabinetto interino e di ripiente un eccio di nando che abbia un assettabile paolo ento appunto e naturalmente ho detto che abbiamo il nostro passaggio vedremo appunto di enfocche con dottorando e sul mentre qui abbiamo una spiegazione Questo va tenendo naturalmente esplicazione di signor. questa cosa non ha proprio concretamente in deliberazione per quello che si tratta di formazione di governo non mi comprende di un o tre e tanti per la donna su posizionamento relazionato con le pregunte in cabine su direzione per lo che si tratta di un'azione di lei di screening ah, sì, entro di conversazione con il governo eccetera perché il sindicato mi ha mai sempre in politica e la politica e la bim cumple un encargo di pensare che per quello che è il tradizionalismo in politica di di accostare capito a un luogo per ajustare e comodare altre cose naturalmente a Magritte fai mente tempravo e mente sono nella mia opinion che può eliminare i sistemi quali sono ma spura possibile come ti comoda ente come ti volo a tutti i assieti vota dentro vota in un break eccetera No, a mia opinione, come se cambia il sistema, il quale c'è un po' di nulla delle capeste qui. E ora, come papi, accomodate, talente che portate a un tipo più di confianza di gente come io, di un tocco, di cose. Signor McQuelian, buon dia e felice meinta. Buon dia, felice meinta. Abbiamo sempre due e ti convoyente. La discussione naturalmente, come spero, di un bando per l'altro, di un processo brutto andando, signor McQuelian. Sì, tutto l'altro, però ti ho una ragione, poi devo dire una po' di sua opinion, e poi mi svegliamo concretizzare lo che il pubblico avisa. Quindi, naturalmente, ho trovato diversi opzioni di discussione. Quindi, per me ho trovato, lo che mi si è vero, che il pubblico avisa il pubblico un governo via lui, il pubblico dell'amore, perché il pubblico dia è una maggiore. la maggioranza della maggioranza, la maggioranza della TTI e la maggioranza della maggioranza della maggioranza come partito, avanti separatamente ma come nemmi? sì e anche in dipomio è una opzione è un governo 5-5-2 ma sono due ma ho più opzioni. Onde è la opzione? La opzione è più simple. 5 4 2. 5 4 2. 5 MFK, 4 paesi, 2 di mano. E come ti dice se? O sobra? Paesi avisa em che trago il proprio soberano? MFK non avisa che non che trago il paese, e il paese non avisa che in che trago il MFK. Sì. Ma, vengo in considerazione qui, perché ho un problema. Paesi avisa che l'opzione è molto importante per il Paese. Come si vanno a vedere, ogni opzione non c'è nella mia messa, che cosa è possibile? Sì, c'è un'opzione di più piccato, di 1. E se un'opzione di 3, tanto di 2. Vengo in opzione di 3, anche. Sì. Un Paese di 4. Sì. 5 Paesi, 4 paesi, 4 paesi. Un'opzione. 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 di 5-5-2, potevo in maniera che si accadeva 5-5, non c'è 5, io c'è 5. C'è me, quello che c'è, 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 non c'è differenza. C'è la votazione, ora d'estate, c'è la votazione, cada uno c'è 5, c'è la votazione, c'è la votazione 5, c'è la 5 plus, c'è la mai più votazione. Però, quando negociassi, potremmo tenere a vista, andando per me via che lo so sedere, e lo so sedere del novento e ocho, tambi, cammina cu, voi me tenere a cuenta, qu'un partito haia mas tanto voto de totalità di 5. C'è la una. Novento e ocho, il novento e ocho, si lo so sedere, cu'nazionale, cu'naborale, cadono andrì un 3.100, al final, na Buneiro, Nacional Ajaña, per se Nacional teme mas tanto voto, Nacional Ajaña, Ministro Fisiliano, che vede a sorgir, cammini di Römer. Tengo vista, cu'e no abai normal, e fredere i l'hema, trafere i l'hema, trafere i l'hema, trafere i l'hema, i l'hema. Cami, potim, un pari cos, ti'n mas, opciò, ondo opciò, anantà, de un formacò, non si no estant'o assento, non si apega, 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 di un ministro presidente, che fa dos, dos anni. quindi mi sto parlando di andare a andare in spanto, quando non puoi negociare, non mi sto cercando di prendere la soluzione con l'altro però mi sto chiedendo di una prima instanza, lo che ti conto è il Scania, per il bandiere di chi ha più voto di un empate di Scania quando tu hai un messaggio concreto con la comunità, manda, ho e poi menzionato anche, lo che non sei nemmeno, è che ora può essere un governo, un governo interino, la opzione di governatore, che è il Nenè, a eliminare, si ti trovi? si, anche se il PAMI c'è un signale, che il pubblico dice, mi che miro vuoi stai messo, è un fai, non si va pensando ora che arriva il risultato, che arriva la messa, non si può avere differenza di opinione con l'altro, però questo è che il pubblico è il vostro più alto di una votazione, il pubblico, c'è il pubblico, è worldsicht happened ma è assicurato che, per esempio, sc righte, è un Sì, amici e amici, noi stiamo in politica calimero effetto. Calimero effetto è ora quando ti batti un'handicazione che puoi mettere due ore di gioco e poi puoi mettere questo che ti mette la volta qui, a capo. E non vota la maggioranza qui, però è la volta che vai delante del voto. Potete aumentare il voto. E poi, la battaglia è così, la passa, è la passa più via. Nel 69 è la passa del tempo con il freno dell'altra, con il treno di battaglia che ho detto, con il Nita, defunto e l'antidosta. Abbate un anno, dopo 30 mesi, il 69, non ho messo tanto assento con il partito nazionale, con un partito. Quelle elezioni promette che in cinque assento, la caina tre, doze sceglie vanno in fronte, uno dei democratici che vanno in fronte, che vanno in fronte. e poi si vanno in fronte. E poi si vanno in fronte. E poi si vanno in fronte con il Giurio e Paola Godet, con il Antone Godet. Nostro c'erano, abbiamo un ues di ruba, dove scorsi di sua detenzione, e poi si vanno in fronte, andiamo a casa, e poi in fronte, un paio di anni dopo, delle loro caratteristicheounce topiche, qui ti dieci sul nostro territorio. Si vanno in fronte con il Reino Maní barri a la distorsione delle loro Authorità in Maní barri a chier, a qui si tornano a chi 노� Remoteale a chi cambia in fronte. Un ch Yale. Un schierzo tra i uabluti in attaqueri, il taste per entrare a chi, , in fronte milio PreIn santi mi cree tiene qui, ma cheigiante il arche gratuito nel netta, e poi poter votare qui. C'è un commento, se tu hai una cosa che ti dice, se tu hai una cosa che ti dice, non attacare non metto il nome del Partito Democratico, non metto il nome di Frente, se tu hai votato a essere Popolare. Il mio mistero c'è una campagna alla vista. La campagna passa, l'elezione passa, non c'è una realtà che il signor Mequellium ha il tuo disposizione, per te il Partito non fa, per chi ti indica che c'è un altro taglio che deve collaborare, per eliminare lei di scrittura in che gabinetto interino passa, e mi sapevo che non cosa che mi posso scoprire, se mi tacque e già sa che fai i paù, cambia il taglio, si ricorre o come ti senti ora ripetare qua il Dio sta contro e non ti ascoltarmi e non ti ascoltarmi, eccetera, eccetera. Ma tende in discussion che lei, ton lei e il governo anterior mi ha preparato. Mi non sape, mi ha dettagli. ho fatto un contatto con il Ministro e lei ha detto che è da trattare in Consiglio di Ministro come è un lei di gabinete? No, no. È un lei di gabinete, ma non è la fase finale è originale di gabinete e mi senti a presto adorare la scoperta e ora è un cosiddetto mi è in scopo, non? non si non cambia le non ti ascoltare la scoperta non fai ghi. L'agrae manetta. L'agrae manetta è un soldato, è un riso Sì, il posizionamento di me ne ha visto? No. Ah, non c'è un problema con gli scritti. Non c'è un problema con gli scritti. Mi permette di chiedere che si mette una lei. Non ha cambiato che mi nasce lei di non. E lei non dico più. Non c'è un original che non si tratta di un consegno del ministro. Non c'è un original. Non c'è un problema. Non c'è un original. Banda di nessun finale. Non c'è un sacco e cosa fa nessun finale. La che è uguale al original di me. Non c'è un lei di scritto. Mi è messo di accordo con me. E ho sei che mi ha accettato. Sì. E sei che mi ha vinto. Non c'è un'altra cosa per presentare. Sì. Se c'è un problema, non c'è una scena. Se c'è un'altra cosa per quella manca. Se c'è un'altra cosa per a chioscopi. Si. Mi ha detto che fosse una scena. Non c'è un'altra cosa per la gente. E hai un'altra cosa per la gente. E ne ho portato. Non c'è un problema con la scena per a chiare. Sì. Qu needs subito o perfetto. Ma, 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 ma. Non c'è un problema con l'altra cosa per la scena. Non c'è un'altra cosa che mi ha scopo non c'è un'altra cosa. da buon patinano. Prende che ho applicato il fine di un'informazione tra gli anni. No, non c'è un casualità. Prende che quando il governatore sa l'è tempo, ha deciso che non lo sapevano. Non c'è un problema, non c'è un problema, non c'è un problema se mi metto a applicare. Però se c'è un paese di regione, ho messo in una certa regola, non c'è un problema. Non c'è un problema. Non c'è un problema. C'è un problema che c'è un'lèi contra i Dwight. C'è un problema. Qu'è chi ha un'lèi? C'è un problema che c'è un'lèi. C'è un problema con lui. Principalmente, ora con il screening di un gruppo che dà campagna, C'è un'lèi, non c'è un problema che c'è un'lèi. è stato fatto con la politica, non c'è problema con il sistema democratico, non c'è un'opinione. C'è un'opinione, non c'è un'opinione. Però è stato fatto con il problema, con una campagna politica, non c'è un'opinione politica, non c'è un'opinione politica, non c'è un'opinione regla. Non c'è un'opinione politica, 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 non c'è un'op Sì, sì. E tu non hai contiene. Non hai qualcosa di propaganda politica. Comprendibile. E il popolizamento è antidemocratico. Però la legge antidemocratica è stata conto per il partito non tanto. Il partito non ha regla di chi non va a fare, chi non può fare, ma la regla è stata del cominciamento di politica nella persona, di una democrazia joven, senza di regla per il partito non la regla di chi non può fare, 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 non può fare. E quello che ti dice, qui, non è no sé, ma hai deciso di fare propaganda, arriva il giorno e lecce di elezioni, le scuole sono i scuole, e per le anni passate, non ho ma l'anima, non ho i scuole di fare le scuole per fare propaganda. Non ho i scuole, sono i scuole di fare propaganda negli anni. E è un altro, che sono più seri. E mi è comprensibile, è logico. Sì. Adesso mi chiede con la polizia, la bomba e i tanti bini. Poi sopra mi chiede come se viene regla di una campagna. Perciò mi chiede il mio diritto democratico il buon diritto democratico è l'altro mio partito vai a buscare firma per partecipare in una elezione vai a elezione. Quando mi chiede, mi chiede, perché le regole non per non partecipare. Un dettaglio, mi chiede l'assunto di Lady Screening è un punto importante per ottenere conto che è il punto che non sta crescendo di l'antico. C'è una cosa che il gabinetto interino ha indicato questa formula del gabinetto che va a messe. Però non mi chiede di questa mestera WAC se è assunta che da trattare questa proposizione di Ministro per lei di Screening è del Consiglio di Ministro. Questa è un problema che se ha letto un coso di Ministro ora che da trattare del Consiglio di Ministro è anche un coso di gabinetto. ora non c'è una confermazione di quello che è il tempo a presentare del gabinetto anche da trattare del Consiglio di Ministro. Sì. C'è una protettare da trattare del Consiglio di Ministro ho fatto un leggo che non ha trattato del ministro che viene che costa un nuovo dengine allora con tutta una discussione ribaggiale e ora io non mi piace quello che mi ha trattato che mi ha scopo che mi ha pare responsabile e che sia un bio che mi ha fatto quello che mi ha puntato un nuovo forse scopo ora mi cambiano lo sta, saca e punta nel cabine nuovo aden e tratta che ci sia un problema l'agano soluzione sì soluzione sì naturalmente ma può comprender sì quando mi ha avvisato non c'è problema con scritto non c'è cosa che già ora in adelante ho sempre ma voglia mess ma c'è non c'è che di mia maniera mi era assunto mi mandatario mi ha stimolo in cara per niente non mi ha avvisato non tal mira quanto cosa l'Ulanda acaba tratta di mandare arriva a noi questa cosa quando la verità non dure nessun chance il ricordo voi sape di un politica sempre potente discussion qui che in un sistema non sono non è un pueblo non è un sistema caribense è distinto dal sistema holandese il sistema holandese la Holanda è un hop e buf ora che è un è un è un è un è un un borghameester un'ombra che è lì di questo campo in Holanda è un po' di investigazione ma sopra apparentemente è la lega costa è oficiale, informale per un gruppo di gente per non poter beneficiare un'ombra che non sta a abattare niente del mondo ora che è la barra come vettro ayer nocce è la barra molto e molto milionario ora non è tutto non è pagato la barra che viviamo viviamo milionario e poi non è così cosa che è passato noi siamo più santi con il Papa di Roma e noi siamo inutili ora questo è il Vaticano non è condenato un cardinal perché sape il segreto di Papa non è fuori questo è il Vaticano che non è un pacchino di un politico non è un politico politico ha un ambito costa di politico un'arte però ho più bello quando ho fatto un'arte non è stato un'artista e il politico non ho più bello che è un'artista solamente solamente non è stato un'artista 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 è stato un'artista e lei discrena da Bezidi. E lei discrena il nuovo mito Poneco, e lei discrena da quinta unica versione e il regeldario del testo in questo momento. Il tuo repapimento non ha qui? Se mi mi senti che tu vai e ti ha spazio per il governo e expressare le dure dei poboli e le tre partite che ti ha formato, mi ricordo che c'è un po' di discussione, un po' di posizionamento, però non mi pensa che il assunto sta esattamente in pericolo. Però, in tutto caso, mi ti chiede che in un negozio di un governo dove il primo corso conoscato in classe c'è un corso dove regalimentare per il periodo qui. Un stop di papi, un stop di dove la informazione dopo, e trappi dentro, però, con la transparencia, mi senti un dolore, mi arriva a la meta. E la meta significa che mi arriva a un governo, mi arriva a la gobernazione. in un governo, noi ci chiediamo per discutere una certa cosa. Come si sape, noi due, si chiudiamo, uno da noi negligliett Cities, loro attacchi ben precedenti. Ogni invece non mettiamo il Ministro Presidente, l'altro mettiamo il Finanza fordrazione ed te sembrano la Piece, un mettiam la Genesca e ci sanno Chr기ini. E lo mandate�� me oppure il Presidente mentre la CPD abbia laregre nella Stato. Come si pietre come? mi da cominciare con la visa, ma, per esempio, sr. stanno tenendo due asinti, due asinti, due portafogli. Qui vuoi? vuoi seguire il lavoro, ma non vuoi accompagnare, seguire il lavoro di vostra portafogli, sì. Qual è il nostro interesse di portafogli, non, come la tua? Alla, non, non e se non sono stati al umano, ma non sono stati agonati, 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 ma non ho il nostro interesse di portafogli, non ha un sistema di negoziazione, Ori di formazione di un governo, e fare sei sei, ma qual è la formazione di un governo? mi pensavo con un cor, ma si è un cor, da un avalto sistema. Solicina un problema con il altro. Come quello che si senta la messa, solicina tutto il problema. Molto problema soprattutto con il suo. Ma io mi raccomando, non mi sono sempre una preghetta, perché mi sono una terribilità e mi sono sempre una preghetta. Perché mi raccomando un formato a fracassare del suo intento, non? Non mi raccomando, dopo un altro formato. È corretto, signor? Però di questo, di accettare le carri e di questo che ti ha fatto. Non è molto più. Non è molto più. No. Mi raccomando sempre una lista di partiti. No. Il mio tempo passa. Tanto mi raccomando. Ho più tranquillo. Ho più luce. Mi raccomando un consiglio. Mi raccomando un'opinione. Mi raccomando un candidato. Formatore, informatore. Mi raccomando una lista. Non ci costa mai più. Mi raccomando un'opinione per i suoi, ma ho fatto una decisione. Il mio 25 è ora di 60 anni. Mi raccomando un'opinione per la mia vita. E ora mi raccomandò un'opinione per i suoi 60 anni. Mi raccomando un potevamo solo 60 anni. Mi raccomando un'opinione per la mia pensione della mia vita. Un'opinione per la mia pensione di politica. però c'è un problema ora che sta applicando la legge contra la gente signor Ben Coelho, che differenza c'è un problema con la legge contra la gente c'è un problema con il trattamento di regla, per screening, lo che non si chiama in hollandese op mat, non mi dì per gente, non sta trattando la legge, la legge non porta per una persona o per due persone mi intacchia un problema, che tipo di messaggio non ha, che contribuino a passi tranquilli dato a cosa non neanche, poi non si lega finalmente in un governo però mi intacchia un'informazione indicando che il posizionamento del Partito Paese apparentemente tanto, non ti permette che lei discrini un problema che mi ha detto è un membro di nuovo, un membro di nuovo vota per sì, ma compagnie sì, ma compagnie bom, entretanto, ti ho un, ti ho visto che non, ehm, 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 si io ho aprovato la legge del Zweig, in tanto ora, io ho conto di già tantificare che io ho sapato che io non può passare il screening quindi, e ma ne registrino di questo motivo se ho mettere un flat tire, che parà, io ho pare come si perde poi, poi cambia il tire, ov, e poi cambia le messaggio, lo segui corretto e me ha detto, quindi ho vissute? ti pensa che cosa? sì poi cambia il tire, ho avvenuto da zero allora c'è un problema ma comprendere ma tendo un po' di sì non è un po' di sì che ho deciso di assumere un'opposizione un gabinete interino di una forma che la sinta è illegale ho deciso di essere se ho visto concretamente non è accettato non è rispetto ho deciso di essere in modo che il gruppo di GES2 parlamentari ha deciso di andare nella mia banda e la banda finalmente ha fatto una realizzazione di riprende poche tollevano mi capone un costo ammesso fatti un gabinete interino a me tambi nota di accuerdo che forma che il gabinete interino abbigna e se me completamente dice sì ora con il piano è ministro non è un po' di due anni non è un po' di sì che cobra salario mi pregúntate se non è richiesto il gabinete interino mi pregúntate mi pregúntate un dia è un diritto di riprende questo è un dia che la sinta non stava a seguire e lei assigna non stai pagare due anni di salario ma attende che il gabinete interino se no signor Bettriano vi siamo qui a di sì di problemi con tutte le cose che con l'altra desistì di coprire 12 anni mi hanno di tempo cortico con l'altra sinta non ora di sì di però con cui non l'altra vi soffri e io mi chiederei che c'è da so non è ma c'è da me ma c'è da me ma chi conoscete ben sopra voi decidere perché non cambierei per me portate un tra poco di un Parlamento nuovo e tra ripetipicoso no congermi bene igual che normalmente lei ha dato un buon segnal o fu o messo che segnal di screening colparevo con screening e voi stare bene con lei di desistir e piatti ma comprender ma comprender ti ho detto bisognan ehm da algun dia tava d'avisa que i d'avisa non ah è ma tanto per avisa con nos ti ma yoria voto avor vi ti ma voto con mfk però da manera avor ma voto non dà conta dà qui c'è can tò mese ti respeto me cose e dà informazione dà tene conto che otro tene más voto que otro ma tendene dà asiento tò conta con bèbimba o for al gobiar e dos costa conta asiento tò conta e cantidad di voto de empate di asiento tò conta bostam pò negocià dingy però realidad politico tà con banda di asiento cantidad di voto un voto ma tanto tò conto mh acabo compondendo mi tò vengo un más vese aquí da un con una no salagate ahora che naturalmente antón nos pide disculpen turistán que retende interamente tur preguntan así pero un tía espacio papá si tur un de visite que turcos que pasa her tambe a aceptan a vota papilla di expresión del señor vives para recha sai que men el gabinete interino visando que forma cosa tu va lugar un un cos que tira spaz panan etc pero ahora señor Scott también un que se vende de un fuerte dice que abandona fortes que no vay la fortes en el gabinete y se también dame un señal de aceptar nada ¿Pero posible? bueno decidir de evitar haber un gobierno nuevo decidir de de vamos a baj para sobra para sobra para perder autoridad y esto está para comenzar la policía decidir que no va estender el gabinete nuevo la notación y el gabinete de biomas si me te quiero que palabra última palabra aquí no 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 hay discusión hay hay policía en la hierarquía que muestra que el comisario de policía está arreglado a mes y hay nada visto siempre sobre metas síntico y hay un punto de discusión entonces no tengo negocio que voy a Secondo me un golpe di Stato tiene la breve parola, però il Gouverneur ha scritto una carta. 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 Il Gouverneur ha scritto una carta.